Siamo all'istituto Riccelli a Milano perché siamo stati contattati dalla preside in quanto aveva il problema della consegna dei computer ad alcuni studenti. L'idea che è venuta inizialmente a un nostro agente è stata quella di proporci per consegnare tutti i computer a casa, quindi a domicilio. Portata questa idea al comandante e al vice sindaco hanno immediatamente approvato e quindi oggi siamo qua a caricare i pc per iniziare la consegna a domicilio. Ci avviciniamo. Allora le chiediamo un documento per portare via. Due firme, un modulo lo terrà lei, poi lo finisce di compilare con i suoi dati, fa una foto e lo manderà alla preside, tramite mail. Mentre un'altra firma che le chiedo è per il nostro modulo che terremo con noi. il nostro, questo qua rimane a lei quello che genera la preside e qua c'è il notebook della ragazza. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Grazie mille, grazie mille.